Ehm, ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo in un mondo in cui noi siamo normali ma tutto il resto, o meglio, gli attrezzi saranno minuscoli. Oggi siamo con Marci che però ha il male al G0 là, perché purtroppo, cioè purtroppo, perché siamo appena tornati al Games Week e siamo tutti un po' malaticci, quindi io sto abbastanza benino, Marci un po' meno benino, ma comunque siamo qui per registrare. Quindi, signor Marci, sei pronto a craftare questi 12 a 3? Non devi iniziare prima, devi... Ti ho chiesto se sei pronto. Sì, vabbè, ho capito che sarà. Io sono pronto. Beh, sarà un video muto, intenzione... Vabbè, partiamo comunque. No, no, parlerò, ci mancherebbe altro. Io sto prendendo del legno adesso, perché tu mi hai detto che praticamente nei crafting servirà ammazzare i mob, ma i mob anche quelli docili. Tutti, allora, qualsiasi mob di Minecraft, se tu lo vai ad uccidere, ha il 50% di possibilità, compresi villager, sì, ha il 50% di possibilità di dropparti un M.B. Questo perché per craftare gli oggetti ci servirà porre un incudine sopra, appunto, l'item, in modo tale da schiacciarlo. Non me l'ho droppato. Eh, vabbè, il 50%, che poi ricordo che... Due non me l'ho droppato. È il 50% di Minecraft, eh, quindi, attenzione, scriptato da plugin. Tre non me l'hanno droppati. Potrebbe, adesso me lo dà il primo a me, invece, guarda. Non me l'ha droppata al primo, va bene. Quattro non me l'ha droppato. No, quattro sì, o il quarto sì. Bene, quindi abbiamo un 25% in realtà, anche se quel gatto non lo inseguo neanche. Ho bisogno della tua Envils, grandissima mucca. Non me l'ha droppata. Bene, me ne servono 12 in totale, perché sono i set di legna, pietra, ferro e... E diamante, mi stavo diventando diamante. Allora, ne ho una e ne ho due. Io avrò ammazzato almeno 15 mob. Io, nel dubbio, faccio subito così, in modo tale che, almeno, ho la prima Tiny Sword. Questa Tiny Wooden Sword, c'è scritto che fa volare le cose. Quante ne hai? Ne ho soltanto una. Però facendo... Non ho sei. Aspetta, come funzioni, scusi? Ah, le attira verso di me, tipo? A sei Envil hai tu? No, dicevo di spada ne ho una. No, a sei Envil, no, sono letteralmente tante. Eh, no, sono letteralmente tante. Però io mi sa che non le prendo tutte subito, perché voglio testarle man mano che faccio le cose. Tu hai fatto che cose? Per esempio, le spada in questo momento. La Tiny Sword. Io voglio prendermi, invece, una accetta in legno, in modo tale. Ora mi faccio il piccone, mi faccio. Eh, ma il piccone, sì, è importante. Ma secondo me l'accetta ci può far prendere un botto di legna. Star, c'è scritto che fa partire un incendio. Ok, ehm, cosa vuol dire che fa partire un incendio? Ho capito cosa vuol dire che fa partire un incendio. No, questa accetta non... Fa schifo. Non la consiglio, diciamo. No, forse è meglio andare su quella in pietra, sì. E ho bisogno anche di prendere altra legna, perché l'ho usata tutta per fare sto schifo. Sì, e poi è sparito tutto, pensa te. E poi è sparito tutto. E non so se a questo punto vado subito di piccone. Sì, vado subito di piccone. Vado subito di piccone in modo tale che almeno mi prendo la cobblestone e faccio l'accetta in cobblestone. E poi me ne fiondo sotto in miniera. Guarda, faccio la cusci. Uno. 25 minuti per spaccarla, giustamente. Due. E anche qua rubiamo un pezzo di questo villeggio. E secondo me l'accetta in pietra è più forte. È più in... Ho altre envi, ne ho ancora una. Io ho fatto il piccone. Il piccone in pietra o in legno? C'è scritto che è mine tiny area. Ok, io invece ho la scia. Porca paletta! Cosa è successo? Bello! L'accetta in pietra c'è scritto che ha un effetto particolare che non ho ben compreso. Mine moonstone fall from the... Ho compreso l'effetto. Il mio? No, il... Sì, dell'accetta. Però c'è un problema perché anche questo effetto non... Non mi permette di raccogliere il legno praticamente. Aia. Ehm... Vabbè, comunque poteva andare peggio. No, no, vediamo un lato positivo. Abbiamo un accesso alla miniera. Oddio, ma io non prendo danno da caduta. In che senso? Non ho preso danno da caduta, zio. Ah, forse abbiamo qualcosa che ce lo toglie. Quindi scendere in miniera adesso è interessante avere tutti i minerali. Però io prima mi manca il piccone... No, mi mancano anche i mob in realtà. Devo uccidere un paio di villager per forza perché mi serve un envil per avere almeno il piccone in pietra. E tu me la dropperai subito? No. Bene. Stanno finendo anche i mob. Questo vuol dire che dovremo scendere in miniera e uccidere quelli cattivi che sono in grado anche di sfondarci con le loro... Oh, da envil al primo colpo. Bene. Il piccone in legno alla fine è il più OP tra tutte le cose che ho craftato finora? Sì, sì. Va bene. Allora, facciamo le cose in pietra e poi me ne scendo anche io sotto in miniera a prendere tutti i rest. Quanti? Quanti ne hai di diamanti? Quanti. Bene. Quindi quello ha già fatto tutte le cose in diamante, l'abbiamo ben compreso. Allora, come sono... Quanti mi servono totali? 3, 6, 8. E sono pochi in realtà, sono davvero pochi. Quindi... Ok. Almeno non ce li a tutti. Porca panetta. Allora, mi serve necessito necessariamente di l'egnia e l'abbiamo. La crafting table, l'ho lasciata allo spawn, ma l'andiamo a ripigliare. Ho una domanda, ma per ammazzarmi come faccio? Non puoi ammazzarti. Devi trovare della lava oppure fare qualcosa di questo tipo che ti uccida in modo naturale. Un creeper. Un diamante. Un altro diamante. Un altro diamante. Non ho full diamante io. Mi fa piacere per te. Io ho fatto ora gli attrezzi in stone, ma non ho altri anvil. Piccone in stone e anche spada in stone. Ovviamente rigorosamente piccoline. Quindi abbiamo questa che c'è scritto... Oh mio Dio! Hai usato la spada? Quale? In pietra. Ma spariscono i mob, zio, con la spada normale. In che senso con la spada normale? Non so come tornare su io! Io ho trovato il mio nuovo oggetto preferito. La spada in pietra, se fai tasto destro, praticamente è un piccone che sfonda ogni cosa che hai incontro. Io sono contento per te, ma io devo... Oh, ecco qua, posso morire. Allora, a me serve del ferro. Ferro che però si trova sotto. Io ho tutto. Hai tutto già per far tutto? Certo, sì, sì, ho tutto. Devo solo semplicemente trovare l'anvil. Eh. Io qua c'è un enderman. Io ho bisogno del ferro, che non c'è stato il ferro però in questo posto. No, trovo solo copper. Forse è colpa mia, perché sto usando la spada per... Vabbè, insomma, fate i cavoli tuoi, poi quando crafterai le cose lo vedrai. Allora, tu mi si mi dà un'altra anvil. Guarda, potresti donarmi il comodo per il operato che dobbiamo fare. Ma sta spada toglie mezzo cuore. Ma sta spada è inutile. L'uccido con l'hash. Oh, va bene. Allora, facciamo il... Marci? Sì? Mi hai fatto cadere una... Una roba in testa? Che cosa? Hai spaccato per caso un pezzo di legna con la tua accetta? Io sono dentro un lagatto che ammazzo le squid. Allora mi sa che mi sono fatto... Anche io ho usato le squid! Vabbè, comunque mi sa che mi sono fatto cadere un pezzo di luna in testa. Comunque, piccone in... Questo materiale qua che non mi ricordo il nome. Ferro. Che mi fa mine in explosions. Quindi faccio così. Effettivamente scava e fa anche esplodere le cose. Però non è molto vantaggioso per le mie... Oh, altro ferro. Non è molto vantaggioso per la mia avventura, essendo che... Allora, io faccio tutte le cose di pietra adesso. Io le pietre le ho già fatte. Sto andando in ordine. Le sto andando in ordine e testo praticamente uno alla volta. E beh, anch'io. Quindi, questo con le esplosioni... Oh, c'è un mineshaft qua. Interesting. Stavo già facendo via. Allora, io provo l'accetta. No, su del piccone. Il piccone è quale? Uh, oro. Però non mi serve. Il piccone in pietra è utile. Ma io ti consiglio di provare la spada in pietra. Perché quella è proprio... È proprio bidda. È proprio bidda da vedere. Vediamo. Accetta. Accetta. Andiamo con l'accetta. Ho avuto verso anche la crafting table. Allora, right clip, grab... Ok. E ti... È un... Non so cosa abbia di una spada. Perché mi sembra più un piccone, onestamente. Però è molto interessante. Perché fai così... E hai anche questa cosa qua. Ma fa anche danno, almeno? Eh, sai che non lo so? Adesso ci provo subito. Tu? Slam! È un pista, cosa? Sì, ma non fa danno. E toglie mezzo cuore quando dai un pugnetto a qualcuno. Me la metto nella mia vanilla, sta roba. Non è molto, credo, legit. Allora, le cose non capisco bene come si è bindate. Perché tipo, la spada è un piccone. La cetta in realtà è un... È un... Un... Del tritolo, delle... Non lo so, delle esplosioni. Che poi posso usare anche... Il tritolo. Però... Oh. Ok. Ho dato una picconata a un mob e... Aspetta, voglio riprovarlo. Ho usato il piccolo di ferro su un mob. Ed è letteralmente esploso. Però... Non è molto forte come le altre cose. Per... Io ho zero diamanti ancora. E ho finito anche le anvil. A me ne servono quattro, le mie anvil le ho finito. Eh, io sono messo male. E sto provando piano piano tutto, eh. Ho la sp... Allora. Mi mancano soltanto le cose in diamante. Però ho zero diamanti e ho anche zero anvil. E questa spadella c'è scritto che fa un black hole. Oh. Ma che cos'è di black hole? Oh mio Dio. Wow. Cosa vuol dire? Io ho sei anvil. Tu c'ho, eh. Io ti dico solo che ho una farm di anvil. Ma con stile, proprio. Wow. Allora, se vuoi un consiglio a livello di scenicici... Scenici... A livello scenografico, se fai la spada in ferro e fai il tasto destro, hai una farm di anvil innovativa. Andiamo? Molto innovativa. Però ti devi mettere vicino... Oh mamma mia! Scappa, scappa! Che sei fatto? È un black hole, c'è una meteora. Cos'è sta roba? Sì, ma il black hole su di te non ha effetto. Attrae praticamente i mob che hai vicino a te. E li fa volare e li kill in automatico. Sto male, ma che bello! Che bello! Che bello! 5 anvil! Allora, 7 anvil. Ho tutto ciò che mi serve. Mi serve soltanto i diamonds che però, a sto punto per trovarli, me uso questa cosa qua. Ma l'accetta? Explode. L'accetta è il tritolo, quello che ti dicevo prima che non lo comprendevo. Porca paletta! E ti ho detto che non è molto comprend... Non so parlare, comprensibile, non comprendibile. Ho 5 diamanti. Bene. In realtà anche io ho praticamente ultimato. Ok? Ho questi qua. E abbiamo 13 diamanti. Allora, facciamo così. Se vuoi tu puoi finire prima, perché alla fine è giusto che sia così, ma voglio comunque provare gli oggetti, perché mi sembra... E finirli insieme? Ah, vuoi finirli insieme? Quindi competizione annullata è diventato un... Alla fine ci sta. Allora, ho fatto la spada. Ho fatto... Dimmi quando vuoi che faccio il resto. Allora, adesso faccio... Aspetta, ho fatto soltanto gli oggetti normali. Ora, trasformo l'accia in diamante. Aspetta, fammi fare anche... Fammi fare anche a me, fammi fare anche a me. Ho fatto la prima e c'è scritto che fa Explosion Plus Plus. Ma non è Explosion Plus Plus? Non lo so, questa c'è in diamante sinceramente mi ha un po'... Non mi ha contato il piccone. Vabbè. Io sto uscendo dalla miniere per venire per la studiare. Porca paletta! Dove sei? Sono in mezzo a un mare. Sto facendo una cosa in creativa io un attimo. In creativa? Eh sì, ho dovuto togliere quello che avevo craftato per ricraftarlo. Perché ho fatto un errore. Tranquillo, tranquillo, va bene. Sto arrivando verso di... Eccolo. Ma che cosa hai fatto tu in quel povero spawn? Io ho fatto tutto quello che devo fare. Explode minus multiple chuncles. No, quello aspetta, lo voglio provare con te un attimo. Questa Explosion Plus Plus mi fa un po' schifo se devo dirvela tutta. Allora, tu cos'hai fatta la spada in diamante? No, io ho fatto il piccone. La spada in diamante è l'ultimo. Allora, dai, ti seguo. Faccio il piccone anch'io. Tiè, sbam e sbam. Eccolo, e c'è scritto anche my multiple chuncles. Fai il tasso destro. No, cosa? Non fai il tasso destro. Ha lagato, quindi mi sa che ha funzionato. No. Posso fare la spada? Puoi farla? Sì, sì, tu fai la spada. Io intanto... Vabbè, senti. Stavo testando il mio piccone. Make mobs swimming lava and dirt bands. Aspetta che lo faccio anche io. Vabbè, a sto punto, per la sfida, dai, per... Moralmente ha vinto Marci perché ha finito prima di me, anche se... È uscito anche che Nico ha vinto. Adesso adesso lo cosa c'è scritto? Aspetta, ma funziona, insomma, da Marci? Ciao. Oh. E' semplicemente ucciso. Vieni qua la maniera. Ho sbagliato tasto. No, bisogna usare i mob, secondo me. Hai lasciato un... Vabbè, c'è che comunque, sinceramente... Guarda, guardare un golem, guardare un golem! Guarda, stai guardando! Ma che come è possibile? No, vabbè, ma è più lì. Astro, è la cosa scusa nel mondo. Uccide quelle rongole e facciamo la cosa finale proprio con stile. Non killarlo, però. Cioè, devi... Pagiamo. Insomma... Ah, non so che di davvero mitico. Mistico, anzi. Non prenderlo da lava, quindi è pure un infinito. È una farm di diamanti. Sta morendo con i diamanti. E sta soffocando. E aspetta che facciamo... E vedo, eri libero. E così invece lo uccido in un colpo? No. Ok, non lo... Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Spero che... Ciao a tutti! Questo video vi sia piaciuto. Ciao. Hai detto che c'è uno nuovo. Eh, dove va andare così.